Buonasera a tutti e benvenuti, finiamo questa sera questa sorta di trilogia sulle elezioni politiche 2018, abbiamo parlato del governo, punto di domanda, abbiamo parlato delle reazioni europee, altro punto di domanda e parliamo stasera ma senza polemica, solo perché se ne hai parlato, ci metto anche qui il punto di domanda, ma mi riferisco alla scheda elettorale, al tagliandino, al bollino antifrode, tentativo che si è voluto fare quest'anno per cercare di assicurare, chiamiamo la correttezza, la purezza, la regolarità del voto, senza possibilità di frode o di trucchetti, di manovre, di manovrine o di situazioni un po' storiche, perché se ricordiamo al tempo, ma lo si vedeva un po' nei film, anche sulla mafia o comunque quelli degli anni 90, la nonnina che entra nella cabina elettorale con una scheda che non si sa come possa esserle capitata nelle sue mani o consegnata da chi, pensiamo sempre alla malavita in generale, la nonnina che entra con una scheda vera, autentica, già con la X per quel partito, va nella cabina, prende la scheda vergine, la scheda nuova che le viene data, la mette in tasca, esce, mette la scheda che le era stata data con il voto dato a chi doveva essere dato e riesce con una scheda bianca pulita. Viene fatto lo stesso giochino a quello che entra dopo, gli viene fatta mettere la X, entra con la scheda già scritta, ritira la scheda bianca, la dà a quello che viene dopo e via così ad assicurare un voto falso, a commettere dei reati, ad assicurare tutta una serie di manovre occulte, politiche, ovviamente così da film, ma anche in una realtà fondamentalmente di decenni mi auguro fa, di un ventennio mi auguro fa e quindi per evitare questo, per evitare tutta una serie di altre valutazioni, via bollino antifrode. Tagliandino, che però crea qualche problemi perché qualcuno, o comunque dei cattivi pensieri diciamo da parte di tanti italiani, qualcuno ci dice ma io sono andato in cabina, mi hanno rimosso il tagliandino, però è rimasto un pezzettino attaccato magari sulla scheda, quindi la mia scheda che è nell'urna ha un pezzettino di tagliandino ancora attaccato, mentre il tagliandino che hanno ritirato ha un pezzettino in meno e quindi insomma si riconoscerebbe magari un domani il mio voto, o ancora sono andato a votare sulla riga del registro, comunque qualcuno ha scritto anche il dato numerico relativo al bollino antifrode che insomma era stato comunicato dal signore che mi aveva dato la scheda e allora io penso ma non è che scrivendo questo numero, nomi, dati, il bollino disponibili sul registro insomma vada un po' a farsi benedire quello che è l'anonimato, non è che magari sia possibile leggere il bollino sulla scheda, il numero del registro relativo a quel bollino e si saprebbe che cosa poi Tizio possa aver votato in quella frangente elettorale? In realtà no perché qualcuno insomma in buona sostanza il tagliando viene strappato alla riconsegna della scheda e quindi nell'urna finisce un voto completamente anonimo, ma però ecco ci sono queste piccole valutazioni così come ci si è lamentati per il fatto che si sia votato soltanto di domenica anche se gli italiani veramente sono stati molto bravi e hanno votato in maniera partecipata in una sola giornata, ma ritornando al bollino ecco poi si dice ma però per gli italiani che hanno votato all'estero il bollino antifrode magari non c'era o comunque in quelle che sono state le elezioni regionali e ci sono state la regione Lombardia, c'è stata la regione Lazio, il bollino antifrode non è stato dato e allora che il rischio possa essere lì o possa comunque presentarsi un domani lì e non in quelle che sono state le elezioni politiche, ecco tutta una serie di problematiche nuove che ci siamo trovati ad affrontare, che non siamo stati in grado al momento di capire e si pensa poi a chi possa avere anche inventato questo, chi possa averci guadagnato, gli scrutatori si lamentano del lavoro in mani nell'avere attaccato tutti i bollini a tutte le schede durante le operazioni di scrutinio, oltre a quello, tutta una serie di problematiche sul bollino antifrode, una sola cosa non mi è piaciuta, la dico perché l'ho vista e perché l'ho fatto, abbiamo capito tutti che insomma siamo andati, abbiamo votato, strappato, tagliandino, combaciato, non combaciato, bollino, registro, tutto quello che volete voi, siamo usciti e la signora o il signore di turno ha preso le nostre schede e ha detto bene arrivederci o comunque poi è andata lei a metterle nelle urne destinate, va bene, perfetto, è così, adeguiamoci, ma però perché qualcuno no? Perché io ho visto le fotografie di politici con la manina che mettevano la scheda personalmente dentro l'urna e io no e voi no, perché non è giusto, questo non mi è piaciuto, grazie.